In due comuni del Casertano i militari della stazione dei carabinieri di Macerata Campania hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa su richiesta della DDA di Napoli dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di due soggetti per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini hanno permesso di accertare la persistenza e l'incisività di fenomeni estorsivi in danno di imprenditori edili nei comuni di Portico e Macerata Campania. Inoltre la presenza di soggetti ritenuti vicini alla famiglia Petruolo, storicamente egemone in Macerata Campania per conto del clan Belforte di Marcianise che talvolta travisati si recavano sui cantieri al fine di effettuare richieste estorsive. L'indagine, che trae origine da spunti raccolti sul territorio, ha permesso anche con la collaborazione attiva delle vittime di estorsione di raccogliere consistente materiale probatorio a carico degli indagati in merito a due episodi di tentata estorsione ai danni di imprenditori edili in Macerata Campania, secondo il consolidato modus operandi che vedeva l'avvicinamento presso il cantiere con la tradizionale richiesta di un fiore o direttamente di danaro.